vi auguro una buonanotte a tutti scusate se questo periodo non ci sono ma se di problemi in famiglia abbastanza gravi ci sentiremo prossimamente intanto caricherò dei video divertentissimi per voi ma non posso esserci di persona perché ho problemi di famiglia abbastanza gravi comunque grazie per gli iscritti questo anno non è molto bello questo inizio d'anno non è molto bello per me e questo mi scompia un po dolce notte a tutti tutti gli iscritti buonanotte